al maestro forza con l'inchino dai l'inchino sorride ringrazia mazza e sorriso allegria la gioia in persona ci siamo saltellate dai mancio saltella al mio via io scandisco i tempi dei salti non voi mani davanti distese braccia distese 10 9 8 7 possibilmente entro la fine dell'anno quando dico il numero non dopo due secondi forza 6 5 4 3 2 2 2 metti le mani distese minchia minata 2 1 0 bravi